buongiorno amici per fare questo lavoretto ci serve la pittura un pennarello e un foglio bianco disegniamo sul foglio bianco un bel uovo di pasqua poi scegliamo i colori della tempera che più ci piacciono e con un tappo di sughero cominciamo a fare dei timbri poi scegliamo sempre un colore a piacere e col dito andiamo a colorare tutto il fiocchetto adesso con gli acquerelli andiamo a colorare tutto lo sfondo scegliete il colore che più vi piace ecco il risultato e che ne dite di attaccarci anche un bel fiocchetto buon divertimento quindi Grazie a tutti.